Grazie Presidente, innanzitutto un ringraziamento agli interventi che sono stati fatti da parte degli altri commissari perché comunque la discussione e l'approfondimento è sempre utile, l'ho detto anche stamattina in Commissione Bilancio al Consigliere Figliomeni e lo ripeto adesso senza nessuna ambiguità, benvengano le osservazioni, le domande e gli approfondimenti su ogni aspetto ricordiamo però che oggi dobbiamo votare qualcosa di ben preciso, ovvero noi dobbiamo esprimerci sulla volontà di riconoscere o non riconoscere un determinato debito che come è stato ricordato deriva dall'ultima sentenza di quest'anno per il 2020 ma ovviamente si riferisce a fatti avvenuti in precedenza quindi bene parlare del futuro dell'azienda, della liquidazione dell'azienda, di tutti gli argomenti che sono stati trattati e che è bene approfondire ma ovviamente non dobbiamo mischiare le cose quindi oggi votiamo una cosa ben precisa e lo facciamo oggi non perché l'assessore o gli uffici sono andati in vacanza ma perché stiamo votando atti che hanno avuto un iter molto lungo, hanno acquisito tutti i pareri necessari, hanno acquisito tutta la documentazione necessaria e ringrazio il segretariato perché comunque ci mette nelle condizioni oggi di votare avendo a disposizione tutta la documentazione minima che ci è necessaria per quello che è la nostra competenza. Chiaramente avere più tempo sarebbe desiderabile da parte di tutti ma ecco ripeto siamo arrivati ad averne poco noi in quest'ultima fase perché in tutte le fasi precedenti è stato svolto evidentemente un lavoro di verifica e di approfondimento che ci mette ecco anzi nelle condizioni migliori di poter votare sapendo che c'è stato già un grandissimo lavoro svolto dagli uffici, dagli assessorati, dall'avvocatura, dal segretariato e quindi oggi andiamo a finalizzare un grande lavoro un grande iter che ha visto tanti soggetti protagonisti e ripeto ecco parliamo tutti abbiamo chiesto maggior rispetto io direi che dovremmo anche rispettare chi ha lavorato prima di noi e comunque sia l'obiettivo era di arrivare a votare questo atto entro la fine dell'anno, noi lo sappiamo tutte le scadenze sono difficili da rispettare anzi molto spesso in fatto di bilancio le scadenze non sono state rispettate quindi comunque rispettarle è già qualcosa di positivo abbiamo votato chiudendo l'ordine dei lavori di questi consigli se non sbaglio 390 debiti fuori bilancio che è un numero superiore a tutti i debiti fuori bilancio sono andati a contarli che sono stati approvati dal 1995 al 2015 quindi è stato fatto un lavoro enorme, incredibile e bisogna anche riconoscerne il valore secondo me poi è chiaro che tutto si può migliorare e siamo noi i primi a volerlo fare però ecco se vogliamo parlare di rispetto e sono d'accordo nel farlo direi che dovremmo rispettare anche chi ha lavorato prima di noi se abbiamo poco tempo non è certo perché questo tempo è stato perso ma anzi è stato utilizzato per svolgere gli approfondimenti necessari e anticipo ovviamente il voto favorevole da parte del Movimento 5 Stelle grazie